Sono tutti degli artisti di cui bisogna complimentarsi. Allora andiamo con gli italianissimi. Alessandro Piva, che è un padovano, perciò gioca in casa. Katia della Fonte, da Livigno. Giussi Campolungo, da Cidanova Mar. Non vedo Doriano di Dotti. Speriamo che lì, intanto presento io la sua modella. La modella di Doriano di Dotti da Mantua. E dalla Ludigiana, Matteo Orfanotti. Tutti questi artisti capitanati da Ennio Bettoni. Grazie Ennio, prego. Fatemi un applauso a tutti. Grazie. Grazie.